Il giorno e la storia. Oggi è il 29 dicembre. 1890. Il settimo cavalleggeri dell'esercito USA massacra 400 Siu in Ermi. 1940. Londra. Bombardieri e Luftwaffe sganciano bombe incendiarie. 1998. Due capi Kmer Rossi chiedono perdono per i loro delitti. Commenta il fatto del giorno Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi parliamo di letteratura con Francesco De Sanchez, autore della storia della letteratura italiana. Grazie a tutti.